Tanto non sono così belle! Devi cercarli più alti, cioè! Sono troppo massi, sono alti così! Ma siete stronze siete! Oggi sono qui al social con un nuovo bacio schiafo. Beh ragazzi, oggi bacio schiafo difficile, non sto capendo un punto, però iniziamo. Allora, vieni! Ragazze, come vi chiamate? Mikol! Cristina! Kirsten! Alessia! Corina! Allora, vieni ragazzi, come vi chiamate? Alessio Eras! Andrei! Daniele! Kirsten! Giuseppe! Allora, oggi bacio schiafo ragazzi, allora vi presenterò i ragazzi uno alla volta e voi dovrete capire se nascono delle emozioni o no con questo video. Non è facile! Andiamo bene! Quali sono un attimo le vostre prime impressioni dei ragazzi che ci sono qua? Oh shit! Oh shit! No, mi piacciono! Dai, ho uno! No! Dovevi prendergli uno più bello! Sono dei malanza del cazzo alcuni! Un bacino non si nega! A uno un bacino! Ci penso! Un bacino a uno! Allora, fratello! Come ti chiami? Ripeti! Alessio Eras! Allora, presentati a loro un attimo, stringi la mano come vuoi fare, come vuoi far te. E mi chiamo Alessio. Allora ragazzi, ascoltate un attimo, vai vai! Allora, sono il latino, sono bello e vado a scuola. Basta! Alessio, bello e vado a scuola. Vuoi... qualcuna di loro ti ha colpito particolarmente o vuoi fare un complimento a tutte, come vuoi? Tutte belle! Tutte belle siete! Eh, non si sta! Si sta carino, ragazzi! Carino e gentile! Allora ragazze, per voi, Alessio è un bacio o uno schiaffo? Schiaffo! Ma la prima è sempre così, la prima! La prima, la prima, la prima! Potente, potente! Potente! È il primo, fratello! Speriamo bene! Speriamo! Seconda, vieni, per te! Alessio, un bacio o uno schiaffo? Schiaffo! E si arriva alla terza, sempre! Piano, piano, piano! Com'era questo? Piano! Piano, piano! Vuoi dire qualcosa, Alessio? È bella! Schiaffo! Oh, no! Oh, no! E non potnega! Che c'è? Va bene, va bene, va bene! Schiaffo! Schiaffo! Oh, piano! Piano, piano, piano! Oh! Sei l'ultima, eh! Vi ha fatto i complimenti, sono gentile! Un bacino, dai! Schiaffo! Guance sulla guance! No, no! Non si porta a casa oggi! Non si porta a casa! Colombiano! Guarda! Oh! Meglio delle arbre! Hai un messaggio finale? Vuoi dire qualcosa alla camera? Vuoi dire qualcosa? Sono comunque belle loro! Sempre! Va bene, va bene! Bravo ragazzo, gentile! Prendete il spunto! Secondo, secondo, vieni! Come ti chiami? Andrei, sono colombiano e sono un emigrato e non mi piace la scuola! Allora, mi piace il nome perché è un debole per gli Andrea, però è caduto in basso con il resto! Ti sfido su Fortnite! Vabbè dai, ma è giovane, può migliorare poi! Non penso! Per voi ragazze! Parto da lei e poi vado! È un bacio e uno schiaffo! Secondo te? È uno schiaffo! È un bell'uomo! Per te è un bacio e uno schiaffo! È uno schiaffo! Non si può fare niente questa partita! Eh, questo match è difficile, è difficile! Sono colombiano! A me piacciono i latini, però... Però... Più alti! Vabbè, alto dai! Può crescere ancora, diglielo cazzo! È giovane? But what the hell, but... Eh... A me! Dai, però un bacino, dai! È un bel ragazzo! Non hai azzeccato i miei prototipi di ragazzo! Non bisogna avere un prototipo, l'amore è cieco! È un bel ragazzo, guarda! Continuo il grosso! Quindi per te è un bacio o uno schiaffo? Schiaffo! Tanto non sono così belli! Bacio o schiaffo? Schiaffo! Dai, schiaffo! Non è così bello, farà però va bene! Prego, prego, prego! È l'ultima! Vuoi dire qualcosa? No, no, io... È un bel ragazzo! Ja, bu! È un match difficile, ragazze, però... Non possiamo, se vi porto cinque uomini, non potete darmi i 25 schiaffi! Ma sulla guancia vale? Almeno un bacio a testa, oh! Anche sulla guancia! Eh, poi... Sulla guancia! Eh, guardamene uno decente! Come ti chiami? Matteo! Puoi descriverti un attimo per loro? Sono napoletano, qui da Flero... Basta! È napoletano! Per te! È un bacio o uno schiaffo? Si voleva fare una mia amica! Chi è? Vabbè, dai, però si cambia nella vita! Quindi lui? Schiaffo! Allora, il prossimo giuro lo faccio! Sorella! Eh! Questo ragazzo napoletano, ti piace sì o no? Ma... Secondo me farà glow up, però adesso no! Farà i glow up, però adesso no! Il linguaggio degli dèi questo... What? Bruh! Baccio schiaffo! Chiaffo! Ma non si sente, scolta! Per voi mi sento in colpa! Siete stronzio, siete! Siamo difficili, non stronzio! Eh, eh! Prego, prego, venga! Io schiaffo! Inter, fai la brava! Lei dice! Schiaffo! Schiaffo! Oh, però non avete molto inventiva, eh! Se la prima dice schiaffo... Oh, come ti chiami? Daniele! Vuoi presentarti un attimo? Daniele, faccio gli artigianelli, sono 2008! Allora, ti piace? Ti piace o no? Eh? Mi tagliano il stomaco, faccio d'anni! Dai, non tu, caro! Schiaffo! 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 Non te li faccio neanche dare, va! Mi sento in uno! Più! Ah, ragazzi più gustoni! Mi state facendo alterare anche a me? Basta, me ne vado, ciao! Ma che cazzo fa? Stop it! Get some help! Bello, è un terreno difficile questo! Ti anticipo, hai notato! Come ti chiami? Giuseppe! Puoi presentarti un attimo? Allora, mi chiamo Giuseppe appunto, sono siciliano, di origine, suono e canto! Siamo guancia! Bacio! Siamo guancia! Bacio! Sono un po' emozionato io! Io no! Anch'io! Anch'io! È una grande vittoria! Per voi, è un bacio o uno schiaffo? È troppo, sembra troppo piccolo! È un 2008! 2008! No, no! Mi devono abbattere! Mi devono abbattere! Schiaffo! Allora, per ragazzo, eh! Sulla guancia! Sulla guancia! Oh, due baci, va bene? Sì! Bacio sulla guancia! Oh, pure lei, eh! Per te! Ciao! Va bene, troppo piccolo! Oh, tre baci, eh! Mi sono emozionato! Ha vinto, ho vinto questo! Mi sono emozionato, ragazza, davvero! Ma perché ha più oltre l'estetica! Devi cercarli più alti, cioè! Sono troppo amassi, sono alti così! Cerca di più alti, così almeno! Quanto più alti, quanti alti, quanto alti più o meno? Come lui! Quanto sei alto? Un metro e... Novanta! È uno e 90! Oh, 15 anni! È lui! Ti arresti un bacio o uno schiaffo a lui? Lo conosco, quindi bacio sulla guancia! Vi piace? Grazie! Lo c'è! Ragazzi! Avete un messaggio finale? Sei molto simpatico! Io almeno quello! Non pensavo di incontrarti in realtà! Invece è andata bene! Avete tirato un po' di schiaffi, ma vi perdono! Esatto! Vi perdono! Davide, dovevo ammettare qualcuno! Ragazzi! Io ci ho provato! È stato difficile! Ma non ce l'abbiamo fatta! Potete andare, potete andare! Potete andare! Potete andare, potete andare!